cari amici di visione tv nell'approfondimento di oggi cercheremo di capire chi controlla veramente l'ucraina chi tira le fila di questo paese che è diventato così centrale negli equilibri internazionali per farlo è con noi uno dei migliori giornalisti e saggisti di inchiesta che abbiamo in italia cioè franco fracassi ciao franco benvenuto ciao insieme alla senatrice granato tu hai presentato al senato peraltro nella sala nassiria una serie di documenti che sono documenti ufficiali dei paesi occidentali alleati alleati dell'ucraina che mostrano come ciò che ci viene raccontato su questo paese sia assolutamente irrealistico cioè ci viene detto che c'è un paese democratico che vuole evolvere verso una forma sempre più definita di liberale democrazia e viene ingiustificatamente e inspiegabilmente invaso da una potenza feroce e guerra fondaia come la russia questo è il racconto che ci fanno le cose non stanno così puoi aiutarci a comprendere un po meglio la natura del governo e del del regime ucraino sulla base di queste prove sulla base di questi documenti di queste evidenze allora i documenti cui parli sono si tratta di un rapporto della corte dei conti europea quindi l'unione europea redatto lo scorso anno loro hanno fatto un'ampia indagine su tutta quanta la società ucraina la politica ucraina e l'amministrazione ucraina e hanno stabilito che l'ucraina il paese più corrotto d'europa oltre a essere uno dei paesi più corrotti al mondo hanno anche stabilito che l'ucraina lungi da essere un paese diciamo democratico dove il popolo attraverso le proprie le sue elezioni attraverso il voto a stabilire chi debba governare è sostanzialmente governato da un manipolo di oligarchi gli oligarchi sono dei miliardari che hanno fatto grazie hanno fatto fortuna grazie a fenomeni corruttivi potendo impadronirsi di grandi aziende grandi risorse minerarie nel corso degli anni 90 e grazie a questa enorme fortuna sostanzialmente governano il paese lo governano attraverso i loro uomini alcuni l'hanno fatto anche direttamente come è successo l'ex presidente poroshenko che era lui stesso un oligarca era uno tra le tante cose che possedeva possedeva tutte le fabbriche di armi del paese oggi poroshenko sta facendo soldi a palate tanto per dare l'idea e oggi però poroshenko è stato sostituito da un altro miliardario da un altro oligarca perché alla fine sono loro quelli che comandano sempre secondo l'unione europea quindi non secondo dei fili non secondo il cremlino esattamente allora questo nuovo oligarca si chiama kolomoisky ed è un personaggio diciamo veramente stravagante nelle sue nella sua descrizione perché lui è il proprietario lui è l'uomo più ricco d'ucraina è il proprietario della principale banca ucraina che ha sede a cipro già questa è una cosa molto strana perché cipro notoriamente è un paradiso fiscale infatti l'fbi quindi un paese diciamo vicino in qualche modo alla politica ucraina l'fbi ha iscritto kolomoisky nel libro nero delle persone da da ricercare in qualche modo da arrestare perché sostiene che la sua banca riciclerebbe una parte dei soldi delle mafie della mafia ucraina ma anche delle mafie italiane e della mafia russa anche allora quest'uomo che ha questa enorme banca che ricicla i soldi della mafia secondo le fbi e diciamo ha sottostipendio dei dipendenti che sono diciamo non convenzionali perché si tratta di un intero battaglione di neonazisti allora se non ricordo male nella presentazione che hai fatto al senato quantificavi in circa centomila uomini non sono tutti con tutti i neonazisti ma mente le milizie private i suoi cioè quelli proprio stipendiati da lui perché normalmente i neonazisti vengono stipendiati allo stato in ucraina però diciamo quelli stipendiati a lui sono circa mille cinquecento mille cinquecento neonazisti in armi non sono esattamente una una cosa di cui non bisogna preoccuparsi il punto è che costui che stipendia circa mille cinquecento neonazisti è stato per moltissimo tempo presidente delle comunità ebraiche ucraine e per cinque anni presidente delle comunità ebraiche europee e la cosa rappresenta quasi uno simolo cioè un ebreo non un ebreo qualsiasi un ebreo che ha che diciamo ha raggiunto i vertici delle istituzioni ebraiche ucraine ed europee ha sotto contratto circa mille cinquecento neonazisti non è tutto questo colomo inschi è di odessa questo squadrone neonazisti è di odessa e lui è il mandante della strage di odessa quella che nel diciamo nel il 2 maggio del 2014 un questo il suo battaglione neonazisti insieme alla mafia locale insieme alla polizia locale assaltarono la casa dei sindacati bruciando vive dopo averle torturate e stuprate bruciando vive oltre 300 persone allora costui è il mandante di quella strage non è finita lì perché costui è anche lui è stato per un certo periodo di tempo governatore di una provincia dell'ucraina una provincia in cui si trova un enorme quantità di gas scisto cioè di un gas che si può estrarre rompendo le rocce in profondità quindi provocando anche piccoli terremoti distruggendo le falde acquifere insomma provocando problemi a un eventuale popolazione che si trova in superficie costui ha firmato un contratto con la shell e con altre grandi aziende particolare multinazionali del petrolio del gas americane in cui assicurava di poter sgomberare l'area ovvero queste queste case petrolifere queste multinazionali del petrolio erogavano soldi per poter fare prospezioni dell'area esattamente poter trivellare e da parte sua visto che sopra sul territorio vivevano alcune centinaia di migliaia di persone lui ha sostanzialmente favorito l'avvio della guerra civile che ci fu in ucraina nel 2014 proprio in quell'area per poter far sì che la gente scappasse e quell'area si svuotasse di popolazione ed è esattamente quello che è successo ci sono stati da dalla sua provincia sono emigrati in russia quasi mezzo milione di persone mezzo milione di persone cacciate le loro case da quest'uomo insieme alle multinazionali del gas e del petrolio per poter trivellare liberamente allora perché è una pulizia etnica possiamo chiamar possiamo tranquillamente chiamarla col suo nome pulizia etnica in questo caso non per ragioni non per ragioni di di etnia non soltanto per quelle banche per ragioni economiche esattamente e allora perché è fondamentale parlare di quest'uomo oltre a essere l'uomo più ricco d'ucraina e più potente d'ucraina per due motivi primo subito dopo la strage di odessa strage che è stata preceduta da una riunione a cui partecipò all'epoca il vice presidente degli stati uniti joe biden insieme ai neonazisti e mafiosi ripeto il vice presidente degli stati uniti è partecipato a una riunione insieme a neonazisti e mafiosi il giorno prima della strage insieme a coloro che poi hanno compiuto questa strage qualche giorno dopo questa strage colomo inschi che attraverso la sua banca anche proprietario della più grande società di gas ucraina ha fatto entrare nel suo consiglio di amministrazione senza nessun motivo ma veramente nessun motivo il vice presidente degli stati uniti d'america il figlio del vice presidente degli stati uniti america hunter biden una circostanza che la stessa procura di kiev ha giudicato come un fenomeno di corruzione vero e proprio tant'è che ha aperto un'inchiesta inchiesta che è stata chiusa perché biden e questo lo ha raccontato lo stesso biden si è vantato di questo è riuscito grazie alla sua al suo potere di vice presidente degli stati uniti a far rimuovere il procuratore di kiev in ucraina questo sempre per diciamo rimarcare l'indipendenza che che gli ucraini hanno nei confronti degli stati uniti quindi quest'uomo è legato in maniera familiare a joe biden ha un legame strettissimo a joe biden il secondo motivo per cui quest'uomo è fondamentale per quello che sta accadendo oggi è che a un certo punto lui ha deciso di prendere il potere di scalzare il suo rivale poroshenko e come l'ho fatto non direttamente perché a differenza di poroshenko non è voluto andare lui a governare l'ucraina ma fatto non sa bene come non so se abbia fatto un casting o che cosa ha scovato un attore ucraino peraltro un attore di lingua russa quindi un attore diciamo vicino a alle minoranze che venivano in quel momento perseguitate dal suo rivale gli ha costruito un uno show televisivo una serie tv la finanziata e questa serie tv racconta di un professore di scuola che in maniera sorprendente diventa presidente del paese presidente dell'ucraina fondando un partito che si chiama servitorio del popolo e lo stesso nome che è stata data alla serie esattamente allora a un certo punto questa serie di che ha un enorme successo questa serie finisce finisce circa un annetto prima delle elezioni che si le elezioni presidenziali si dovranno tenere in ucraina al termine di questa serie questo attore fonda un partito che si chiama realmente servitorio del popolo quindi lo stesso nome della serie lo stesso nome del partito del diciamo del della del protagonista di questa serie mette ai vertici del partito gli scengiatori della serie e lui diventa il presidente di questo partito del candidato alla presidenza dell'ucraina colomois chi finanzia con una quantità disumana di soldi per la politica ucraina la campagna elettorale di quest'uomo e ovviamente questo uno viene letto mi è letto semplicemente perché non solo per la quantità di soldi messi nella campagna elettorale ma viene letto perché la gente ha riconosciuto in quest'uomo il protagonista della serie che è una persona bravissima buonissima vicino al popolo e così via uno di questi diciamo rivoluzionari venuti al basso non al caso aveva esattamente lo stesso il partito aveva esattamente lo stesso nome della serie scusami se ti interrompo tra l'altro il fulcro della serie di the seven other people era proprio la storia di questo uomo qualunque questo insegnante una persona normale che diventa presidente dell'ucraina lottando contro la corruzione e lottando contro lo strapotere di questi oligarchi e in questa realtà surreale l'uomo che le interpreta e che poi interpreterà nella realtà il ruolo di presidente dell'ucraina è un'espressione diretta di uno dei più corrotti oligarchi dell'ucraina questo mi sembrava che noi ormai viviamo una realtà che è distopica a livelli incommensurabili perdona l'interruzione no no ma hai fatto bene a precisare questa cosa il più corrotto di tutti allora si dice dei presidenti degli stati uniti che loro sono diciamo devono rendere conto ai lobbisti che gli hanno finanziato campagna elettorale bene zelensky che appunto l'uomo in questione l'attore in questione è una creatura letteralmente è stato inventato da colomo inschi sono inventato prima come star televisiva poi come politico infine come presidente e quindi è totalmente cioè non c'è ombra di dubbio che possa essere che possa non essere un burrattino nelle mani di colomo inschi quindi noi abbiamo il presidente dell'ucraina che è un burrattino nelle mani del più corrotto e più potente oligarca d'ucraina che governa attraverso appunto zelensky che governa attraverso zelensky che è circondato da sceneggiatori che hanno creato questa serie televisiva che gli scrivono i discorsi che gli organizzano tutto cioè zelensky non fa un non muove un solo passo non dice una sola parola che non sia stata già pensata e ideata da degli sceneggiatori televisivi sceneggiatori cinematografici vorrei sottolineare questa cosa perché veramente siamo in un truman show quest'uomo che governa sostanzialmente l'ucraina è un uomo che ricicla i soldi della mafia che ha che finanzia che ha al suo servizio un intero battaglione di neonazisti che hanno compiuto la più sanguinosa e più orribile strage della storia d'europa dalla seconda guerra mondiale a oggi ecco è importante chiedere questa cosa e quest'uomo è legato è legato mani e piedi è legato da un punto di vista quasi familiare con il presidente degli stati di joe biden quest'uomo ovviamente non zelensky ma colomo insi sì esattamente facciamo un passo indietro poco prima della strage che ha innescato la guerra civile nel 2014 e che poi a sua volta la guerra civile si è incancrenita fino a portare all'intervento russo nel 2022 tu dicevi che c'è stato questo incontro in questo incontro c'era l'attuale presidente degli stati uniti joe biden che all'epoca era vicepresidente tu accennavi anche a personaggi della mafia come come hai questa informazione a chi ti riferisci e e quali sono gli elementi che ti fanno parlare di presenza della mafia all'incontro tra biden e questo oligarca di cui non riesco a pronunciare il nome quindi lo chiamiamo l'oligarca abbiate pazienza impronunciabile colomo inschi allora il l'ucraina ha una mafia molto potente come quella russa una mafia peraltro per inciso che in questo periodo sta spacciando le armi che arrivano dall'europa c'è una buona parte degli armamenti dell'europa se ne possessa la mafia e li vende a mezzo mondo chiusa parentesi compreso organizzazioni terroristiche che sono che dovrebbero essere sanzionate rispetto a qualunque acquisto di armi esattamente la la mafia che è forte in ucraina è ancora più forte ad essa che è una città portuale che è la più importante città portuale dell'ucraina come tutte quante le città portuali hanno una presenza della criminalità organizzata a maggior ragione se questa è molto forte nel paese perché ha partecipato a quella riunione perché la mafia è in qualche modo allegato i suoi destini a quest'uomo a colomo inschi e allegato ha un futuro che dovrebbe essere roso e probabilmente lo è stato di un impossessarsi reale del potere perché se colomo inschi fosse andato al potere in ucraina la mafia avrebbe diciamo per intersposta persona governato quel paese come si fa a sapere che c'è stata una riunione all'epoca tra questi personaggi si sa perché all'epoca circolano delle fotografie in cui venivano mostrati questi personaggi fotografie che nel giro di qualche giorno scomparvero dal web perché evidentemente qualcuno le aveva messe inavvertitamente oppure volontariamente questo va capito e in queste fotografie si vedeva chiaramente una stanza Joe Biden si vedeva chiaramente una stanza colui che era noto per essere il capo mafioso di Odessa si vedeva chiaramente l'uomo che comandava il battaglione neonazista che è lo stesso uomo che ha lanciato l'attacco contro la casa dei sindacati il giorno successivo si vedeva chiaramente il ministro dell'interno ucraino che era un neonazista dichiarato veniva era un ex capo di uno di questi squadroni paramilitari nazisti ecco queste immagini purtroppo sul web non ci sono più come è accaduto in tanti altri casi ed è uno di questi fenomeni questa però è un'altra storia di riscrittura della storia di riscrittura degli eventi insomma sono accadute molte cose negli ultimi anni e molti racconti sono spariti dal web anche riguardo l'ucraina tantissime immagini delle stragi compiute dai neonazisti nel 2014 nel 2015 soprattutto sono sparite dal web ed erano immagini ve lo posso assicurare impressionanti se non anche raccapriccianti quindi c'è questo incontro surreale tra vicepresidente degli stati uniti l'oligarca colomo inschi il ministro dell'interno che è quello che avrebbe avuto la responsabilità di vigilare sulla sicurezza di tutti i cittadini e scoppia la scoppiano le gli scontri che culminano in in questa strage davvero spaventosa nasce il inizia la guerra civile e arriviamo all'intervento della russia ora come risponde l'occidente rispetto a un governo così corrotto che entra in guerra con una con la maggiore potenza nucleare con una delle massime superpotenze del mondo cioè l'europa in particolare perché di questo di questo tu hai parlato al senato l'europa in particolare che è sempre stata così avara di finanziamenti ai suoi stati membri in difficoltà ma invece riempie letteralmente l'ucraina di armi e soldi ma questi soldi e queste armi a chi vanno come controlla l'unione europea che in un paese che per sua stessa missione è il più corrotto che ci sia nell'eurasia come come controlla che i denari badano al popolo ucraino che ne ha bisogno e non vengano intascati dagli oligarchi non lo controlla molto semplicemente non esiste nessun organo di controllo europeo l'ucraina non lo permette e nemmeno l'europa ci ha provato a inviare un organo di controllo per valutare dove finiscono effettivamente i soldi dove finiscono effettivamente le armi la cosa incredibile è che ci sono alcune organizzazioni umanitarie che denunciano addirittura un mercato di esseri umani che si è creato in qualche modo in Ucraina e cioè il mercato dei profughi per cui la stessa croce rossa ucraina è che a sua volta super corrotta prende tanti soldi per poter dare il via libera agli ucraini che lo desiderano di poter emigrare di poter andare all'estero come profughi perfino su questo l'Europa fa finta di nulla si hanno dei rapporti che raccontano di queste cose e l'Europa non fa niente l'Europa nei confronti dell'Ucraina negli ultimi 30 anni ha girato la testa tutto il tempo sono 30 anni non è non sono tre mesi sono 30 anni che l'Europa si gira dall'altra parte ignorando tutto quello che viene dall'Ucraina ignorando la nazificazione, ignorando la corruzione ignorando la guerra civile, ignorando le leggi liberticide, ignorando l'istituzione sostanzialmente di un apartheid nel paese ignorando le stragi, ignorando la mafia, ignorando tutto e continuo a farlo Franco dopo che avete presentato in Senato questi documenti e queste evidenze come ha raggito la politica in un paese come l'Italia dove anche senza conoscere i fatti in presenza di una propaganda martellante la maggioranza degli italiani è contraria alla politica guerra fondaia di Draghi? Tu hai trovato orecchi attente? Hai trovato un pubblico politico disposto a considerare questi fatti oppure no? Mi scusa se rido ma la domanda anche se molto seria e anche molto ironica c'è stata Volevo chiudere sì, volevo chiudere con una battuta di spirito Perché non è accaduto nulla perché non gliene frega niente a nessuno, si continuano a All'altra parte fanno finta di niente, c'è un signore che si chiama Draghi che ha preso delle decisioni e gli altri ogni tanto starnazzano qualche cosa e dopodiché chinano una testa e votano quello che decide una sola persona alla faccia sempre della democrazia perché noi siamo gli esportatori di questa democrazia, non è successo nulla, avremmo potuto presentare anche un rapporto in cui diceva che con tutte le prove anche fotografiche e video in cui Zelensky era un pericolosissimo pedofilo che aveva messo su una rete di pedofili, non sarebbe cambiato nulla, assolutamente nulla, non qualsiasi cosa che accade in Ucraina, per inciso anche in questo l'Ucraina è uno dei mercati principali proprio per la corruzione diffusissima delle sue istituzioni, anche nel traffico pedofilo internazionale, esattamente e traffico di organi tra le varie cose, esattamente i famosi battaglioni neonazisti, una delle cose che fanno è quella del traffico di organi, c'è una signora che è stata, che è una di quelle che è finita in mano russa, arrestata, catturata dai russi a Mariupol, che è molto nota anche all'Interpol perché la donna che dirige il principale traffico di organi dall'Ucraina e Costei è un ufficiale delle forze armate ucraine arrolata nel famoso famigerato battaglione Azov, catturata di recente dai russi, ecco, quindi diciamo che l'Ucraina non si fa mancare nulla dal punto di vista del è proprio il cattivo, e pensa che ci vengono raccontati come degli eroi e dei martiri dico e pensa che ci venivano raccontati fino a ieri come degli eroi invincibili e dei martiri che combattevano sotto i piccoli per la nostra libertà, per la democrazia, per i diritti umani e per i valori europei Peccato che queste stesse persone sono state indicate dall'OSCE e dall'Amnesty International come dei criminali di guerra nel corso degli ultimi otto anni, sono macchiati di crimini orribili, orribili, cioè delle cose che fanno vergogne, cioè che mi fanno inorridire solamente al pensiero, solo al pensiero che ci sono gli esseri umani che facciano queste cose, bene, queste persone qui che fanno queste cose sono le persone che noi stiamo aiutando E questo dà anche il senso del livello a cui l'informazione italiana è arrivata descrivendo davvero una realtà non soltanto inventata ma diametralmente opposta a ciò che invece purtroppo avviene in Ucraina. Franco io rimarrei ore a parlare con te anche perché tu sei un pozzo inesauribile di informazioni, so però che devi andare, quindi ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti invito a tornare per continuare in questa operazione verità di cui l'Italia ha disperatamente bisogno. Sì, grazie, grazie mille e io vengo sempre volentieri anche perché c'è bisogno di raccontarle certe cose, non si fa mai abbastanza. È vero. Grazie Franco e grazie ovviamente anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link per poter dare il vostro contributo al nostro lavoro. La regia ora ve li mette in sovraimpressione, quindi se ritenete che l'informazione che vi dà la televisione e i giornali non sia propriamente quella che cercate, magari potete vedere. Grazie a tutti.